E' semplice, mi metto sempre alla figlia. Vedete che sto prendendo come funziona? Dal prossimo mese, qualsiasi cosa... Ma chi? Vamo mandare a chiamare. Quando mi puoi pagare a passare? Quando mi puoi pagare a passare? Allora io ho così. Adesso ci sono due pazze, quattro cinze pazze. Quando qualcuno mi puoi pagare a passare, io stai facendo mandare a chiamare. Allora io stai passando quando mi puoi pagare a passare. Allora io ho visto di me, stavo a diventare a passare. Cioè da quando mi capiterà, no da oggi. Alla prossima volta che mi capiterà. Voglio cambiare il modo di pensare. Non mi puoi pagare più. Quando mi dicevo, guarda una battuta di loro con voi. I primi giorni io facevo quello di noi. Non mangio i miei stupi. Sto vedendo, cioè... Una volta vedi... Una volta vedi un ragazzino per fare un buon rilà, fatti un buon affetto. Una volta vedi una cosa, e pensavo un valente che tu puoi essere... Una volta vedi una cosa... Ma l'ultima è tutto che ho già conto, l'ultima è scritta su lì. Ma l'ultima è che ti metti qui. Sempre qui. Guarda. Ti tocca. No, tu... Non lo fai con me. No, no, oggi... Non lo fai con me. Perché non lo fai con me. Tu... Tu... Ci metti con me. Io... Non ci metto con me. Mettete con la tua coordinazione. 3 che siete in Pompena. Amfiteatri, Porta Marina... Porta Stati. Porta Stati. Tieti. Tieti.